Buongiorno a tutti, con questo intervento vorrei raccontarvi un po' un grande errore che ho commesso io in passato e una volta che me ne sono reso conto mi ha permesso poi di fare veramente un salto incredibile nella mia crescita e nell'ottenere risultati. L'errore di cui voglio parlarvi è quello che spesso ci si concentra sulla formazione tecnica. Mi rallaccio un po' anche all'intervento che ha fatto Piero Primo. Tecnicamente siamo molto preparati, ciascuno nel proprio settore in base all'ambito in cui si lavora, perché ci formiamo, sin da piccoli iniziamo con la scuola a formarci, però mai nessuno ci ha spiegato come si fa a vivere, come si affronta la vita, non c'è nessuna formazione sulla vita, quindi come affrontare dei problemi, come gestire le paure, come controllare le emozioni. Questo è quello che poi ho scoperto incide molto di più sull'ottenere risultati, molto di più della competenza tecnica. Posso essere bravissimo tecnicamente, ma se ho tanti limiti dall'altra parte, non dal punto di vista tecnico, è difficile riuscire a ottenere risultati e questo è il motivo per cui vedo tantissime persone intelligenti, colte, formate, preparate, che però restano bloccate, non riescono veramente a ottenere risultati. Io mi presento, sono Nando Pappalardo, sono il fondatore di YTH, l'acronimo di Your Inspiration Teams. La mia azienda nasce nel 2011 quasi per sbaglio, quando insieme con la mia compagna decidiamo di mettere in vendita dei template su Team Forest, il marketplace di Envato dove si vendono template per WordPress. I nostri template piacciono, iniziamo ad avere successo, iniziamo a fatturare tanto e da lì in poi cresciamo. Quello che era iniziato per gioco è diventata una vera e propria azienda, oggi siamo in 30 persone. Io mi sono trasferito nel 2015 a Tenerife, ho una sede in Italia e un'altra sede a Tenerife. La mia azienda si occupa oggi di sviluppare plugin per WooCommerce. Come nasce l'idea di questo intervento? L'idea di questo intervento nasce che una sera mi trovo a parlare con un mio amico, Carlo, lui è un infomarketer, ex consulente del lavoro e nel 2007, con questa grande rivoluzione digitale che c'è stata, lui è stato uno di quelli che l'ha abbracciata questa rivoluzione digitale e ha completamente cambiato la sua vita. Ha iniziato a vendere prodotti formativi online, quindi ha deciso nel 2007 di lasciare completamente il mondo che gli apparteneva fino a quel momento, la consulente del lavoro è andato all'albo a consegnare tutto e si è completamente cancellato dall'albo e cambiato lavoro. E mi diceva che tutti gli strumenti che lui ha utilizzato per ottenere i risultati che poi ha ottenuto e che hanno permesso di cambiare lavoro, parlo di una persona che ha tre figli, quindi famiglia da mantenere, un cambio importante, una decisione molto importante e non facile da prendere. Mi diceva che questi strumenti, ci sono degli strumenti che funzionano dal punto di vista tecnico, come funnel di vendita, follow up, email automatiche che portano il cliente a comprare il prodotto che si sta vendendo, funzionano, sono ormai degli strumenti assodati che funzionano, queste nozioni vengono trasmesse agli studenti. E mi diceva perché su 100 persone a cui lui da queste nozioni tecniche solamente 10 riescono ad ottenere risultati e gli altri 90, nonostante gli strumenti funzionano, non riescono ad ottenere questi risultati. C'è come se fosse, sono delle leggi matematiche quasi, come se avessimo un'equazione con A più B più C uguale D, però questo A più B più C uguale D sembra non essere uguale per tutti. Perché? E mi diceva, faceva l'esempio, se loro facessero un prodotto neanche ottimo, buono, mediamente sufficiente, una pagina di vendita mediamente sufficiente, un advertising su Facebook mediamente sufficiente, delle automazioni, delle mail di follow up per portare la persona a comprare mediamente sufficienti, i risultati sono scontati, è veramente come un'operazione A più B più C uguale D. E mi ha chiesto questo parere. Da lì l'idea di fare questo talk perché è proprio quello che io avevo provato sulla mia stessa persona, io ero molto molto preparato tecnicamente fino a prima di creare l'azienda, però i risultati stentavano ad arrivare, ero uno di quelli che faceva fatica ad arrivare anche a fine mese. La mia risposta a Carlo è stata l'attitudine personale. È questo quello che realmente fa la differenza. Quello che realmente permette alle persone di ottenere risultati è esattamente quello che gli americani chiamano il mindset. Perché è vero che A più B più C è uguale D, ma se una persona non riesce neanche ad arrivare a mettere in pratica quella formula perché magari faccio un videocorso e ho paura di mettermi di fronte alla videocamera, mi bloccherò già molto prima. Oppure devo fare l'advertising su Facebook e ho paura dei possibili commenti degli haters che scriveranno sotto la pubblicità che faccio su Facebook e quindi mi blocco ancora più. Quindi c'è tutto un lavoro molto più grande da fare prima ed è un lavoro che quasi nessuno fa. Tantissime persone continuano a formarsi dal punto di vista tecnico e sulla propria persona l'investimento non viene fatto quasi mai da nessuno. Qualcosa che non vediamo, quasi invisibile, non ci siamo assolutamente abituati a questo. Io ho 30 minuti e quindi cercherò di parlarvi delle cose più importanti, vi parlerò, ma sono 4 i punti che voglio prendere in considerazione e per descrivervi un po' quello che intendo vi racconterò qualche aneddoto mio personale e in alcuni casi invece qualche aneddoto di persone più o meno famose, conosciute. La prima in assoluto secondo me delle attitudini personali che possono fare la differenza è l'importanza di saper prendere decisioni. Tantissime persone, conosco tante, preparatissime, che però quando si tratta di prendere decisioni restano lì bloccate, nel limbo, in eterno e questo li blocca. Vi faccio un esempio qui mio personale, io fino all'età di 28 anni lavoravo in pescheria con mio padre, avevamo creato una pescheria insieme, una pescheria che lavorava molto bene, guadagnavo bene, però non era il lavoro che avevo scelto io, a me piaceva l'informatica, quindi nel 2001, fine 2001, inizio 2002, vi parlo quasi 20 anni fa, comunicavo al mio padre dell'idea che volevo lasciare la pescheria. Nel 2001-2002 non c'era ancora quello che c'è oggi, non c'era Facebook, Google era appena nato, Amazon ancora non era quello che è diventato, quindi era una cosa dove mio padre quando io lo comunicai mi prese quasi per pazzo, mi ha detto ma che vuoi fare? Per fare che cosa? E io gli dissi a me piace il computer, l'informatica, quando mi metto davanti al computer per me il tempo smette di passare, è come un gioco, sto giocando, quindi io vorrei fare un lavoro che sia di questo tipo, anche se guadagno un decimo rispetto a quello che guadagno oggi, però vorrei fare qualcosa che mi piace davvero, che mi batte dentro il cuore. Chiaramente ci fu una guerra psicologica che andò avanti per quasi un anno, cioè quasi un anno mio padre, oggi da padre, direi anch'io capisco il suo tentativo di dissuadermi dalla mia scelta, ma c'è stato un anno di guerra psicologica in famiglia con tutti i suoi tentativi di demoralizzarmi, di dirmi ma chi te lo fa fare, ma smettila, ma è un'idea completamente folle. Ho avuto la fortuna di essere più forte nella decisione psicologica e il prendere quella decisione nel 2001-2002 oggi mi ha permesso di essere dove sono. Se non avessi avuto quella forza, tantissime persone che conosco restano bloccate in scelte del genere perché o il fidanzato o la fidanzata o il papà o la mamma o la cerchia di amici che frequenta, sono delle persone che lo buttano giù dal punto di vista del morale, del tentativo di fare la sua scelta, restano bloccate lì, vivono una vita che non è più neanche la loro. Se fossi rimasto in pescheria starei vivendo una vita che non è la mia. Grazie a quella decisione ho potuto sviluppare, sarebbe potuto andare, non ha tanta importanza neanche che oggi la mia azienda fattura tanti milioni all'anno perché non è una questione di denaro. Io quando ho presi la scelta, la presi, potevo guadagnare anche molto di meno per fare qualcosa che veramente mi piaceva. Era questa la cosa più importante. E sempre sul prendere decisioni, cito sempre un altro aneddoto personale, nel 2011 io sono un ex sviluppatore, i primi template li ho sviluppati io ho messi in codice io, la mia compagna li disegnava, io li mettevo in codice. Nel 2011 quando i nostri template hanno iniziato a vendere, ho capito che se volevo veramente continuare a fare qualcosa di importante, a crescere, a ottenere risultati, dovevo prendere un'altra decisione importante. Nel 2011 dicembre 2010 è stato l'ultima volta che io ho messo le mani su del codice. Ho preso la decisione di smettere di sviluppare, a mio grande malincuore perché mi piaceva tantissimo, per dedicarmi all'imprenditoria. La mia azienda stava crescendo, avevo bisogno di assumere persone. Io ero un freelance che veniva da un negozio, da una pescheria, non avevo competenze imprenditoriali, per cui ho dovuto iniziare tutto un percorso di formazione in ambito imprenditoriale. E non avrei potuto farlo facendo lo sviluppatore, perché cambiava assolutamente tutto. Cambiavano i libri che dovevo leggere, cambiavano i corsi che dovevo frequentare. Quindi anche qui una decisione importantissima che mi ha permesso di ottenere determinati risultati. Non facile da prendere anche questa. Infine un'altra importante decisione che ho dovuto prendere, questo per chiudere il capitolo decisioni, nel 2014, fine 2014, oggi noi andiamo a plugin per e-commerce, nel 2014 i nostri template su Team Forest avevano iniziato a perdere appeal. Noi siamo stati per tanti anni i quarti autori su Team Forest per fatturato e vendite al mondo, fatturando oltre 3 milioni di dollari di template venduti. I template iniziavano a vendere di meno, perché la concorrenza era aumentata tantissimo. Quando mettevo un nuovo template, dopo mezza giornata, questo template era a pagina 10 nella home page, non si vedeva più. Quindi si perdeva visibilità e chiaramente si perdevano vendite. Per cui anche lì ho dovuto prendere una decisione molto importante, su Team Forest in quel periodo eravamo circa sui 70 mila dollari al mese, nel 2014, e disse ai miei ragazzi, qui per il momento ancora siamo in attivo, ma tra un annetto, se continua così, inizieremo a perdere. E non volevo arrivare a quel punto, volevo trovare una soluzione prima. E la decisione importantissima fu quella di, mi accorsi che c'era questo nuovo mercato che si stava formando nell'ambito e-commerce, poi subito dopo ci fu l'acquisizione da parte di Automatic di WooCommerce, che ha confermò che la mia idea era valida, ma io l'ho decisione alla presi prima, iniziamo a sviluppare plugin prima. Quando lo comunica ai miei ragazzi, quasi anche loro mi presero per pazzo. Cioè lasciare un mercato sicuro dove facciamo 70 mila dollari al mese per il nostro sito dove partivamo da zero, dove realmente non ci conosceva nessuno, non avevamo brand. Quindi anche qui un'altra decisione importante, che poi oggi comunque ci ha permesso di fare tre, quattro, cinque volte, sei volte quello che facciamo su Team Forest da soli, ci ha reso completamente indipendenti, quindi una scelta col senno di poi vederla oggi giustissima, ma quando l'ho dovuta prendere è stata una scelta difficile. Lasciare una certezza sicura per qualcosa anche lì di insicuro. Ecco, il più delle volte, se queste scelte non vanno fatte, si resta immobili a subire gli eventi che ci accadono. Un altro aspetto molto importante sottovalutato è il potere del focus. Cioè su cosa ci si focalizza. Questa rappresenta, in questa slide voglio rappresentare col puntino nero un grande problema che più o meno abbiamo tutti quanti in famiglia, nella nostra vita. Cioè un po' tutti abbiamo problemi più o meno grandi. Però abbiamo anche tante cose belle. Le tante cose belle sono i puntini colorati. Che diamo per scontate? Io ho due splendidi bambini in salute. Una cosa che sembra normalissima, ma quando vedi vai in un ospedale di oncologia, reparto infantile, ti rendi conto di quanto sei fortunato. E questo lo diamo per scontato. Ecco, ci sono persone che passano l'intera vita, quando c'è un problema, con il naso messo davanti a questo puntino così. E non vedono tutte le altre cose belle che c'hanno. Cioè se ci si concentra solo sugli aspetti negativi delle cose che abbiamo, è chiaro che è impossibile ottenere risultati. Perché viviamo in uno stato mentale che è all'opposto di quello che si dovrebbe avere per ottenere risultati. In uno stato mentale più depressivo. e voglio farvi un esempio di alcune persone che nonostante, perché io quando parlo di questo, spesso persone mi dicono, però tu non sai cosa c'ho io, cosa sto vivendo io. In realtà non sono importanti gli eventi, quello che ci è successo. Quello che veramente conta è come noi reagiamo a questi eventi. E vi voglio fare l'esempio di Alex Zanardi. Quanti di voi qui conoscono Alex? Tutti praticamente. Alex Zanardi nel 2001? Ex pilota di Formula 1, per un brutto incidente, ha perso entrambe le gambe. Un evento abbastanza devastante per qualsiasi essere umano. Ma la sua reazione è stata incredibile. Nel 2005 era di nuovo ad allenarsi a correre. È diventato campione del mondo dei giochi paralimpici. E continua a mettere record anno dopo anno. Senza le gambe. quindi nonostante l'evento, la sua reazione, e come Alex ci sono tanti esempi, c'è la Versace che anche lei ha perso le gambe, c'è Bebe Vio, campionessa di Fioretto, all'età di 11 anni, una meningite acuta. Per una meningite acuta ha perso entrambe gli avambracci e le gambe. La sua reazione, una bambina di 11 anni, cioè persone incredibili. Quindi al di là del problema più o meno grande che possiamo avere, è sempre la reazione che noi possiamo avere a questi problemi, a fare veramente la differenza e a permetterci di ottenere risultati. Questo è il potere del focus. Un altro aspetto molto importante delle attitudini personali è l'essere causa. Il far qualcosa per scatenare gli eventi, non restare passivi a subirli. E con l'essere cause, io parlo di qualsiasi tipo di cose, anche l'essere presenti oggi qui a questo evento è mettere in moto una serie di cause che possono innescarsi con la mia presenza a questo evento. Conoscere la persona X con cui posso collaborare, parlare con il relatore Y che poi magari mi aiuterà in un progetto, conoscere altre persone, altre web agency, altri freelance all'interno. Fare qualcosa che ci permetta di innescare una reazione a catena della nostra vita. Se restiamo fermi, senza muoverci, chiusi in casa, non succede nulla, non ci cadono le cose dal cielo. Vi faccio un esempio di due persone, chiameremo Mario e Giovanni. Un esempio di due persone che stanno cercando lavoro. Una persona, Mario, affronta questa cosa in modo negativo, dicendo non c'è lavoro, tutta coppa del nostro governo, della situazione economica internazionale, non ci sono speranze. Io ho perso anche la voglia di inviare curriculum. Ha smesso anche di inviare curriculum. Dall'altra parte Giovanni invece dice ok, non c'è lavoro e io ne approfitto in questo momento che non sto lavorando per fare quel corso di formazione finanziato dal Fondo Sociale Europeo e aggiungo skill al mio curriculum. Così magari quando mando la prossima volta il curriculum è ancora più appetibile rispetto a tre mesi prima. Due atteggiamenti completamente opposti. Secondo voi chi ha più probabilità di trovare lavoro? Mario o Giovanni? La risposta è chiara. Quindi anche qui un tipo di atteggiamento che cambia completamente i risultati che possiamo ottenere. Può essere intelligentissimo, può essere preparatissimo, ma con quel tipo di atteggiamento non otterrai risultati, è quasi scontato, è matematica. Altro aspetto molto importante, la sicurezza. Su questo vi racconto un aneddoto personale. Nel 2015 quando mi sono trasferito a Tenerife ho iniziato di nuovo da zero in pratica. Avevo lasciato qui in Italia 15 ragazzi in ufficio. Io mi sono trasferito lì e ho iniziato a lavorare di nuovo da casa. Questa è la mia prima postazione di lavoro a Tenerife, a casa mia. Una scrivania Ikea da 20 euro e una sedia Ikea. Quando sono arrivato lì la mia idea era quella di anche lì provare a creare un team come l'avevo creato in Italia. L'azienda continuava a crescere e non mi sarei fermato lì. Quando parlavo di questa cosa con amici, parenti, conoscenti lì a Santa Cruz, spesso, non spesso, quasi sempre mi veniva detto che era una cosa impossibile da realizzare. Dicevano in che modo tu vuoi fare l'azienda qui quando i ragazzi che avrei dovuto prendere a Tenerife avrebbero dovuto essere formati dai ragazzi italiani. Quindi due lingue diverse. Lì si parlava lo spagnolo, qui si parlava l'italiano. In che modo? E tra l'altro a distanza. Non solo due lingue diverse ma anche a distanza tramite chat o videoconferenze. Ci sarebbe stato il problema della lingua. Io sinceramente non riuscivo assolutamente a vedere questo problema. Provavo a mettermi dall'altra parte, a cercare di vedere come la... però per me non esisteva. E quindi dicevo ma gli sviluppatori quasi tutti parlicchiano un po' l'inglese. C'è da una parte che dall'altra. Il linguaggio che scrivono è inglese. E quindi proveremo a parlare in inglese. Ci saranno delle difficoltà? Sì. Però le affronteremo. Sarà più lento il processo? Ma lo facciamo. Dicevano sì, in inglese. I ragazzi spagnoli che parlano in inglese. È una cosa impossibile. Cioè sempre mi sentivo dire questa cosa che era impossibile da realizzare. E si trattava di una cosa per me, no per me, nella realtà semplicissima da fare. Io non dovevo fare nulla fisicamente. Oggi nel 2019 siamo in 12 persone a Tenerife, di cui quasi la metà sono sviluppatori. Adesso, ho preso altri due ragazzi in stage settimana scorsa, uno inizia lunedì adesso, quando rientro. I nuovi ragazzi che vengono in stage ad essere formati faranno formazione direttamente in ufficio, quindi non più a distanza, e direttamente in lingua spagnola, in madrelingua con i ragazzi spagnoli. Quindi il problema che c'era all'inizio, completamente risolto. È stato facile? No. Non è stato facile. Abbiamo perso, con i primi due o tre ragazzi ci ho perso un anno e mezzo per formarli. Quello che in Italia magari facevamo in sei mesi, lì ci ho perso un anno e mezzo, facendo errori, cambiando tutor, sbagliando. Ma questo fa parte della vita. Non è che ogni cosa che fai funziona perfettamente, va tutto perfetto, tutto bene. Bisogna essere in grado anche di vedere dove si sbagli e correggere. Se ti fermi ancora prima di sbagliare non farei nulla. Quell'essere causativi. Mi ricordo ancora oggi quando sono andato, era il 2000, 2015, fine del 2015, andai all'università del San Cristobal della Laguna di Ingegneria e Informatica a parlare, a fare una partnership con l'università perché io da lì prendo i ragazzi in stage, a dirgli che ero interessato a prendere queste persone. E quando sono andato all'università ancora non parlavo neanche lo spagnolo io. Quindi il mio era un tentativo misto tra italiano e inglese di farmi capire, ma non mi sono posto questo limite. Io sono andato lì dicendo che in qualche modo ci capiamo, dirò quello che voglio fare e ci arriveremo. Perderemo cinque minuti in più di tempo nel dialogare, ma il mio intento era quello. Non mi sono fatto bloccare dalla paura. E quell'azione mi ha permesso poi nel 2019 di avere l'ufficio oggi al centro di Santa Cruz con tutti i ragazzi che lavorano direttamente in ufficio e formati direttamente in Spagna. Questa è un'altra cosa che per me, ripeto, io oggi la comunico a voi con un senso, cioè non voglio passare come quello che ha fatto. In questa azione qui non ho fatto nulla. Cioè era un'azione semplicissima che chiunque altro avrebbe potuto fare. Quindi semplicemente è questione di mindset. Ho lavorato su alcuni aspetti miei personali che mi hanno permesso di essere questo tipo di persona. E questo nei risultati che ho ottenuto in vita mia è quello che veramente mi ha permesso di fare la differenza. Cioè quando ho iniziato a lavorare su questi aspetti ho smesso di fare fatica ad arrivare a fine mese e ho creato tutto un altro tipo di realtà intorno a me. Ma questo a 360 gradi non solo in ambito lavorativo. Questo nella comunicazione, nella leadership, nelle amicizie, nei rapporti con i tuoi figli, con la tua compagna, ovunque, si rispecchia a 360 gradi in tutto perché cambi come persona. E vi dirò di più, le persone che vi stanno intorno dopo iniziano poco poco a cambiare insieme a voi. Perché le mie reazioni sono diverse da quelle che avrei potuto avere 10 anni, 15 anni prima. Quando c'è oggi per esempio da riprendere qualcuno nella mia azienda per qualche problema, io lo faccio in un modo completamente diverso da come l'avrei fatto 15 anni fa. 15 anni fa avrei creato un contrasto, oggi do energia a quella persona, oggi cerco di farlo motivando quella persona a fare quello che deve fare. Quindi dall'altra parte arriva un messaggio che è completamente diverso, in un modo completamente diverso. Per ritornare al titolo dell'intervento, vedo spesso tantissime persone bloccate in questo limbo con un logorio mentale che li blocca con se e ma e chissà e probabilmente, quando spesso l'azione da fare come quella che ho fatto io con la partnership con l'università, è molto semplice, è lineare, non ci vogliono grandi competenze tecniche per fare quell'azione. Quindi è solo una questione di gestione nostra delle emozioni, delle paure, della sicurezza. Diciamo per ritornare al titolo della presentazione, qual è il limite più grande che abbiamo? Il limite più grande che abbiamo è quello che noi stessi ci poniamo, siamo noi stessi a decidere qual è il nostro limite. Nel momento in cui spostiamo questo limite leggermente più in alto, quello diventa il nuovo limite. Ho avuto modo di applicarlo tantissime volte nella mia vita e tantissime volte ho alzato l'articella sempre più in alto, sempre più in alto, e ogni volta mi rendevo conto che il punto in cui ero fermo prima era io che avevo messo quel limite. Erano state le mie paure, le mie emozioni, il mio modo di affrontare le situazioni che mi si presentavano a creare quei limiti. Ho finito? Grazie. Grazie.